Musica Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati al nostro consigliato appuntamento settimanale con Diagno Sì anche questa puntata la dedichiamo all'emergenza coronavirus anche perché vogliamo vedere lo stato delle cose nella nostra regione Lo facciamo oggi con due ospiti che sono sempre sul campo di battaglia come altri che ci hanno preceduto tutti i giorni quotidianamente Quindi sentiremo dalla loro viva voce quali sono le novità e quali sono le misure che si stanno intraprendendo e si stanno consigliando anche per tutta la cittadinanza nella nostra regione Allora saluto e ringrazio il dottor Antonio Pio Dingianna, medico di medicina generale, grazie dottor Dingianna per essere con noi Grazie a lei, buonasera E saluto e ringrazio anche il dottore Eugenio Corcioni, presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici di Cosenza E allora dottor Corcioni vogliamo un po' fare, è stata una settimana anche questa ma io ritengo anche la prossima forse sarà una settimana decisiva Com'è la situazione, lo stato delle cose della nostra regione è considerato che noi abbiamo una nella nostra città Parlo della città più vicina a Cosenza, poi magari se voi avete anche i numeri delle altre Ma fermiamoci nella nostra provincia, quindi un grande ospedale AB, abbiamo una grande azienda sanitaria, abbiamo un ospedale SPOC Insomma quanti sono i contagiati, quanti sono gli ammalati e che previsioni avete voi per i giorni e per le settimane a seguire? Allora intanto per adesso al momento in cui parlo non ci sono, tranne che quel caso positivo che comunque non ha nessun aggaggio anamnestico con la Calabria Perché veniva dalla zona rossa di Codogno, non abbiamo nessun dato concreto ad oggi, ad oras di positività Però questa è una questione soltanto di tempo, perché è evidente, è un virus che abbiamo capito estremamente contagioso Non esistono frontiere né fisiche né di altra natura con le altre regioni, possiamo rallentare il più possibile, dobbiamo rallentare il più possibile Ma non dobbiamo fare un disastro se avremmo, dovessimo avere nelle prossime giorni qualche positività Il problema è circoscrivere il più possibile gli eventuali focolai e soprattutto rallentarli Cioè cercare di rispettare le norme che il governo ha individuato, non banalizzare le norme che sono state attuate Soprattutto della non vicinanza con persone non note, cercando di stare il più lontano possibile dagli altri E basta, questo ci deve tranquillizzare il più possibile Per il resto la macchina si sta cercando nei limiti e con i limiti dell'essere in Calabria Di riuscire di essere in pieno di rientro, di aver avuto tagli feroci Si sta cercando nei limiti del possibile l'organizzare E su questo eventualmente ne parliamo Certo, dottor Corzioni, l'unità di crisi del Dipartimento di Salute della nostra Regione Ha varato alcune, come dire, ha dato alcune direttive Per esempio una riguarda l'effettuazione dei tamponi Perché magari molte persone per tranquillizzarsi avendo alcuni sintomi Determinati sintomi che poi ricordiamo sono sempre quelli simili ad un'influenza stagionale Magari dicono, vabbè, io per mettermi al sicuro vorrei fare questo tampone Ma questo tampone non si può fare così alla leggera a chi ne fa richiesto O soltanto a chi lamenta determinati sintomi, ripeto, che possono essere assimilabili a quelli dell'influenza stagionale Sì, ed è giusto che non venga fatto Deve essere fatto esclusivamente rispettando le indicazioni E peraltro noi in Italia ne abbiamo fatti anche troppi Noi dobbiamo rispettare due condizioni che entrambi devono coesistere E quali sono? Uno, ci devono essere una sintomatologia chiara e evidente di disturbi respiratori Non solo della sindrome influenzale, di disturbi respiratori veri No, sa perché, mi scusi un attimo, perché lì sul sito dell'azienda sanitaria leggevamo E non altre patologie Allora, chiariamo questo punto Le sto spiegando Allora, primo, ci devono essere una sintomatologia non solo simile-influenzale Ma simile-influenzale complicata da disturbi respiratori Prima condizione Che non è sufficiente per fare il tampone Seconda condizione Che deve coesistere il dato anamnestico di provenienza da zone infette Quindi da zone rosse stabilite dal decreto Oppure la possibilità di documentare la convivenza in un posto di lavoro o quant'altro Con qualcuno risultato già noto positivo Quindi, se non ci sono queste due condizioni insieme, il tampone non viene fatto Io, il mio omologo di Bergamo Questo lo posso dire perché mi ha autorizzato a poterlo dire Quindi il Presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo Quindi Bergamo che sta per diventare zona rossa Con febbre, con influenza di tutta la famiglia Non ha fatto il tampone Non gliel'hanno fatto E stiamo a Bergamo E quindi, questo per dire Per dire che bisogna tranquillizzare E non pretendere quello che non è giusto pretendere Il tampone, più che all'individuo, serve alla comunità Non all'individuo E rendiamoci conto che siamo in una medicina pubblica Che deve tutelare la comunità Non i singoli Attraverso i singoli si deve privilegiare la comunità E se sono queste le indicazioni, rispettiamo queste indicazioni Ok Dottor Dindianna Lei come medico di medicina generale Come, insomma, io penso a lei Che qui rappresenta un po' tutta la categoria Che in questi giorni, in queste settimane Sta vivendo un po' un disagio da questo punto di vista Perché immaginiamo questi pazienti che telefonano Adesso siamo tutti un po' terrorizzati Siamo tutti un po' sul chi va là Tra l'altro, ancora si può dire che siamo In piena influenza stagionale E quindi è facile confondere questi sintomi E in prima battuta si chiama il medico di famiglia Che succede? Lei è capitato di gestire telefonicamente un paziente Che le chiedeva aiuto? Quotidianamente, più di una volta Ai medici di medicina generale I pediatri di libera scelta Ma succede anche per i colleghi della continuità assistenziale La cosiddetta guardia medica Di avere telefonate da parte di pazienti Che lamentano una sintomatologia Del tipo dell'apparato respiratorio E dico meno male va bene così Perché la raccomandazione che stiamo facendo Dall'inizio, diciamo, dell'epidemia È stata quella di non venire Negli studi E di non andare in pronto soccorso Lo stiamo facendo a tutte le persone Che hanno delle patologie O dei sintomi Che interessano l'apparato respiratorio No, ma io mi chiedo Per telefono Sì Io immagino che sia difficile Per voi medici Fare una diagnosi Capire No? Perché Ma il telefono viene molto utilizzato Anche nel rapporto con il paziente Molto spesso basta Per tranquillizzarlo Per, diciamo, suggerirle Conoscendo noi E basandoci sul rapporto fiduciario E quindi conoscendo le patologie del paziente Le sue allergie eventualmente Le sue indolleranze a farmaci A quant'altro Possiamo anche suggerire telefonicamente Eventualmente Se la sintomatologia O la situazione non è naturalmente grave Che non richiede una visita Prontamente Possiamo suggerire Tutto ciò che occorre Perché stia tranquillo Perché si curi bene E perché, diciamo Venga fuori da questo stato di malattia D'altra parte, diciamo Il contatto telefonico è quotidiano Quindi gli diciamo poi di richiamare Ci sentiamo telefonicamente spesso E seguiamo L'evoluzione della malattia Telefonicamente Se poi ci dovesse essere bisogno In caso malaugurato di sospetto Di... Allora se... A lei ovviamente non è mai successo questo Mi par di capire Però immaginiamolo, no? Che cosa siete, voglio dire, attrezzati per... Allora qua ci sono due ordini di problemi Che bisogna considerare Uno Che il ministero giustamente ci dice E dice a tutti quanti Di controllare un pochino la diffusione Delle patologie respiratorie in generale Tu curi Quindi non soltanto quella che può essere Il discorso, diciamo, del coronavirus adesso Ma le malattie respiratorie Anche perché siccome non c'è Una diagnostica differenziale Tra quelle che fosse un'influenza Un pochino più impegnativa O qualche altra forma, diciamo, virale Dell'albero respiratorio E quello che è il coronavirus È chiaro che da un punto di vista congettuale Tu li devi considerare più o meno tutti Allo stesso livello Ma il, diciamo, l'atteggiamento da tenere Nei pazienti che hanno malattie invettive È la stessa cosa Sia l'influenza, sia la tubercolosi Sia, diciamo, il coronavirus O il nuovo coronavirus O gli altri coronavirus che ci sono in giro Il problema quindi qual è? È quello di cercare di mantenere i pazienti a casa E là dove devi andare Noi seguiamo certamente un triage telefonico Ed un flowchart Che è stata concordata Tra le nostre categorie, diciamo, sindacale E scientifica con il ministero Con, diciamo, la task force nazionale Per cui, se ci sono dei casi In cui si sospetta che qualcuno Possa aver contratto o meno Il coronavirus o che sia stato in contatto Come diceva il Presidente prima E quindi ci sia un contatto stretto Allora c'è tutta una procedura Che seguono a flowchart Quindi la comunicazione al Dipartimento Dalla comunicazione al 118 E poi si vede, diciamo, se il paziente Ha bisogno o meno di essere visitato O di essere trasportato addirittura In ospedale Il problema è che noi Quando andiamo Dovremmo essere attrezzati Per visitare i pazienti Con i mezzi Con i dispositivi di protezione individuale Adesso li avete attualmente? Ma non ce l'ha nessuno in Italia Qua noi non ne abbiamo La medicina generale La guardia medica E i pediatri per la scelta Non hanno i dispositivi di protezione individuale So per certo che l'azienda Ha fatto delle richieste Ha cercato di comprarle Sembra che sia tutto Nelle mani della protezione civile A livello nazionale Non a livello regionale Quindi ci debba essere Una distribuzione Da parte della protezione civile Il problema però è chiaro È un problema quotidiano per noi Noi abbiamo bisogno E se mi dice cosa state facendo Ci stiamo arrangiando da noi Questa è la verità Cioè ogni medico Ogni gruppo di medici Eccetera Si sta arrangiando Alla meglio Per cercare di evitare Di venire incontro Ad invezioni di qualsiasi tipo Perché siamo nel Diciamo nel Nel dubbio Di cosa C'è un po' di confusione A livello generale No non è confusione Dovremmo usare i dispositivi di protezione Che non ci sono Non ci sono Ci sono Il 118 è ben attrezzato E la sta lavorando molto bene In ospedale ci sono E mangano mangano a noi Mangano sul territorio Mangano poi Allora Dottor Corcioni Dicevamo prima di andare in onda Lei mi diceva Ovviamente noi medi La categoria Medici Paramedici Eccetera A parte i pazienti Che si ammalano Purtroppo Stiamo pagando un po' Il prezzo più alto In questa situazione No? Beh insomma Adesso Non vorrei preoccupare più di tanto Gli stessi colleghi Non c'è dubbio Che la cosa non va Né sottovalutata Né allarmata È utile dare allarmi Immotivate O piuttosto irrazionali Che non vanno ragionare No ma sa che cosa Dottor Corcioni Mi scusi se l'ho interrotta Noi dobbiamo E voi anche che siete Professionisti del settore Anche essere chiari Certo non fare allarmismi Ma sa perché Perché poi la gente da casa Percepisce questo Dice beh allora Non ci dicono la verità Stanno E quello Se c'è una comunità Trasparente Su questo tema Questa sicuramente L'Italia Rispetto alle altre nazioni Questo bisogna dare atto Ora uno può condividerlo Non può condividerlo Ma la trasparenza Che c'è in Italia Su questo argomento Devo dire che È incontestabile Detto questo Quindi Critiche gratuite Insomma su questo tema Critiche gratuite Se mai il tema In questo momento Certamente la categoria Dei sanitari in generale Degli infermieri Degli os E dei medici Sicuramente sta pagando Un prezzo alto Sia per la quantità di lavoro Sia perché purtroppo Abbiamo dei colleghi Infetti E qualcuno in rianimazione In gabbo nazionale Ma questo voglio dire Fa parte Dei grandi numeri E fa parte del gioco Anche perché La confidenza fisica Giustamente Ci diciamo Il fatto medico Ovviamente è fatta Di competenza fisica E quindi fa parte Però il ragionamento Da considerare Se mai È un altro Noi siamo in una situazione Parlo in Calabria In questo momento Diciamo così Se volete Privilegiata Certamente Rispetto all'Odigiano Siamo in una situazione Privilegiata Ecco Non ci illudiamo Che questa situazione Possa durare Sempre Ce la curiamo Ma dovremmo Attrezzarci E dobbiamo Attrezzarci Ancora di più Rispetto A quello che si sta facendo Se mai questo è L'invito Che faccio A chi ha potere Decisionale E organizzativo E se volete Anche un potere Al cittadino In generale Perché noi parliamo Ai cittadini Che devono In qualche maniera Spingere E fare quel Controllo sociale Controllo sociale Che manca in Calabria E che O quantomeno Deficitare Mi spiego A me ha allarmato Moltissimo La dichiarazione Del direttore Del dipartimento Sanità Che ha convocato In questa situazione I direttori generali Che non ci sono andati Alla riunione Questo è qualche cosa Di intollerabile Qualche cosa Che non può essere Sottaciuto E qualche cosa Che Il direttore Può essere bravo Può essere meno bravo Può essere Non ci interessa In questo momento La critica sulla persona Non ha nessun senso Io dico che invece I direttori generali Sanno bene Chi ha il potere Chi ce l'ha messi E non è quel direttore E quindi Non rispondono A quel direttore Questo è qualcosa Di intollerabile Di assolutamente Da sottolineare Come un fatto Di una gravità Assoluta Insomma Noi non possiamo Stare Andare avanti Con i ragionieri Non possiamo andare avanti Con i ragionieri E si è uscito In piena Emergenza Virus E' uscito Un decreto Del commissario Di governo Il 57 Che non tiene Conto affatto Di quello che è successo Che ci dice Che in tre anni Ci saranno Bonda sua Meno di 500 Assunzioni In tutta la sanità Che ci dice Che dobbiamo ancora tagliare Che ci dice Cose assolutamente Campate per aria Non è possibile Noi dobbiamo avere qualcuno Che risponda Delle cose che fa Dobbiamo avere Un controllo sociale maggiore Questa situazione E' assolutamente Intollerabile Io ho fatto già Un invito Al presidente eletto Della giunta regionale Di in qualche maniera Essere più presente Certo Sì Con metodi diversi Rispetto al predecessore Di Contrapposizione Questo non c'è dubbio Qui non stiamo A fare A questo Ma non basta A questi metodi Bisogna essere incisivi Io vorrei Profondamente Che la nuova giunta regionale Acquisisca Quella possibilità Di riappropriarsi Della gestione Della sanità Perché per quanti limiti Possa avere Quella gestione Avrà un riscontro elettorale Avrà un riscontro Di gestione In questa maniera Noi siamo assolutamente Lontani Con direttori generali Nominati dal governo Che non si presentano In una situazione del genere In assessorata A parlare di questo argomento E' qualche cosa Di intollerabili Di assolutamente Intollerabili Da denunciare Con grande forza Beh Sì Insomma Lei ha perfettamente ragione Diciamo anche Che Noi siamo qua E quindi aspettiamo I vari direttori Dell'ospedale So che sono stati Molto impegnati Lo sappiamo Sono giornate E così Però Insomma Ci uniamo anche Alle parole Del dottor Corcioni E questo proprio Per La tutela Dei cittadini Di questa salute Della collettività Che è l'obiettivo Da perseguire E Certo Se Non so Se avessimo avuto Le spalle più forti Tradotto un po' In soldoni Probabilmente Perché Diciamocela tutta Noi Come le diceva Ci auguriamo Che in Calabria Le cose procedino Lentamente No Che non si raggiungano L'infezione procede Lentamente Sì sì L'infezione Certo Tutto il resto Dove essere più rapido Esatto Perché E lì Tutti diciamo La stessa cosa Se al nord Abbiamo gli ospedali Attrezzati Anche lì Con questi Grossi numeri Sono al collasso Che potrà accadere Se malauguratamente I numeri Da noi In Calabria Dovessero cominciare Ad aumentare Io voglio dire Intanto Rimbocchiamoci le macchine Cosa che stiamo facendo Per tenere Basso il contagio O se è possibile Assende il contagio stesso E questa è l'arma migliore Per non avere problemi Questo non c'è dubbio Lo sforzo è unitario Le polemiche Non esistono Su questo tema O perlomeno Possono apparire Ma vanno spende Vanno assolutamente soppresse Quindi il primo Il compito È rallentare Il più possibile Il contagio Se è possibile Abolirlo Cioè non averlo Il contagio Quindi Vedete che Quando ci sono Dei momenti Di vera crisi Come questa può essere Beh insomma C'è sempre Un aspetto positivo La qualità della vita Può addirittura migliorare Le abitudini singole Possono migliorare Le strutture Possono migliorare Ed è questo L'invito che ho fatto Cioè le strutture Devono migliorare Questo è il momento Che non si faccia Via i ragionieri Avanti Le professionalità giuste Che abbiano competenza E capacità realizzativa Dottor D'ingianna Insomma Sono parole incisive Quelle che abbiamo sentito No? Lei è d'accordo? Assolutamente Sono d'accordo Con il mio presidente Anche perché Può essere questo Un momento di opportunità Sembra strano Dice Di tipo economico Come il bene salute Debbe essere rispettato E vada un pochino Al di sopra Di quello che è La mera economicità Questo dimostra anche Il fatto giusto Per integrare Quello che stava dicendo Il presidente Che noi abbiamo A Castrovilla L'ospedale di Castrovilla Un reparto di pneumologia Che in questo momento Sta chiudendo Ditemi voi Che logica c'è In tutto questo Cioè mentre oggi A livello ministeriale Si discuteva Di potenziare Di aumentare I reparti anche Di pneumologia In tutta Italia Noi ne stiamo chiudendo uno Che è anche Tra parentesi Un centro Che ha un certo Spessore Anche più spessore Di assistenza Che ha dato risposte Importanti Gestito dal professor Tirone Prima di essere in pensione Dai suoi collaboratori E che ha dato risposte In quel territorio Importante di salute Oggi lo stanno chiudendo Allora Può essere un momento Di opportunità Chissà che si possa partire Da questa emergenza No? Chissà Però io ecco Ribadisco quello che dice Le buone idee Camminano sulle gambe Delle persone E' importante che ci siano persone Che abbiano la testa libera Ma che abbiano soprattutto La voglia di lavorare Perché noi Per esempio Proprio come medicina generale Sono due anni Che abbiamo fatto Un accordo integrativo regionale Per riorganizzare il territorio E a quest'ora Avremmo potuto avere Già delle strutture Di aggregazione funzionale Aperte 24 ore Sul nostro territorio A 12 ore Che avrebbero potuto dare Risposte importanti Di salute In questo momento E noi non riusciamo a partire Perché purtroppo Nonostante sia stato firmato E pubblicato il DCA Che permette appunto Non manca una nota Manca una nota Del direttore generale Che ora c'è un problema Ora c'è un altro Ora c'è un altro Parlo di quello regionale Del dipartimento E sono due mesi Il tempo passa E questa forma Io di Come dire Di negligenza Inaccettabile Inaccettabile Che poi acquista Un posto E poi diciamo Assume una forza Terribile Travolgente Quando succedono Questi momenti Di epidemia Quando tu vedi Che hai bisogno I nostri operatori Un abbraccio forte A tutti i miei colleghi D'amici in generale A continuità assistenziale Dei pediatri Di Berasci Tutti i miei colleghi Del territorio Che sono in prima linea E stanno mantenendo La situazione Sotto controllo Con grandi sacrifici Personale e familiare Posso garantire Familiare e personale Assolutamente Però a questo punto Io vorrei anche dire Come ha detto il Presidente Noi dobbiamo fare Le misure di contenimento Sono quelle più importanti Quindi alle persone Dobbiamo dire Tuteliamo anzitutto I nostri anziani E le nostre persone più fragili Questo è il motivo Per cui Dobbiamo collaborare Dobbiamo collaborare Evitare quindi Di andare Ripeto Se siamo ammalati Negli studi medici Oppure di andare Nei pronto soccorsi Usiamo questa attenzione Nei confronti Dei nostri cari Dei nostri nonni Anche se non li abbiamo Ci diventeremo noi nonni Degli altri Degli altri Delle altre Secondo la sua esperienza Quotidiana I suoi pazienti Ecco Si sono facilmente Hanno capito L'importanza Di mantenere Determinate Abitudini Cioè Consigli Che voi Dispensate Lo fanno Così Le dirò di più Non solo l'hanno capito Ma criticano Gli altri amici Quando vedono Che non seguono Le dieci raccomandazioni Che il ministero Sormarsi Tutti quanti A vicenda Bene Ripartiamo da qua Vi chiedo Soltanto due minuti Di pazienza Mandiamo un attimo Di pubblicità E ritorniamo Tra pochissimo Cercate l'Europa Sul tuo Play Store O Apple Store E scarica La nostra app Bentornati amici telespettatori Siamo in compagnia Del dottore Eugenio Corcioni Presidente dell'Ordine Provinciale Dei Medici di Cosenza Del dottor Antonio Piodingianna Medico di Medicina Generale Stiamo ancora In questa puntata Stiamo dedicando La stiamo dedicando All'emergenza coronavirus Vediamo Anche nella nostra regione Stiamo cercando di fare Un po' il punto Della situazione Allora Dottor Corcioni Io leggevo No vabbè Soltanto l'abbiamo sentito Tante volte Questo virus Se è aggressivo Non è aggressivo Che potere ha Di infettare Tutto quanto E anche un'altra domanda Che io la faccio sempre La faccio anche a voi Ma se questo virus Ha Perché a differenza Dell'influenza stagionale La polmonite Può subentrare Come conseguenza In questo caso Abbiamo visto Che invece Colpisce subito Quindi può Questo stesso virus Causare Questo tipo di polmonite Cosiddette interstiziale Allora Prima di rispondere a questa domanda Mi corre l'obbligo Di specificare meglio La faccenda Delle deficienze nostre Perché giustamente Il collega Prima faceva riferimento A una pneumologia Che si chiude Beh in quell'ospedale Si sta veramente male Io ho scritto una lettera Al prefetto Per prendere in mano La cosa Perché è un'emergenza seria All'ospedale di Castrovillari Sta chiudendo il pronto soccorso Sta chiudendo il pronto soccorso Quindi Basta con i ragionieri Otteniamo lo sblocco del turnover Avremmo i medici Non è vero che non li abbiamo Ovviamente vanno sistemati Cioè vogliono i concorsi Non vanno Non vanno né il precariato Né il gettone Né la partita IVA Con regolari concorsi Fatti rapidamente Noi troveremmo i medici Non andrebbero a deserti i posti Però questa fortuna Che in Calabria Potremmo ancora avere C'è necessità di un governo forte Che faccia le cose E che si riappropri Di questa possibilità Per premessa Per quanto riguarda Il discorso del virus Beh certo La caratteristica Di questa infezione Sembrerebbe Proprio quella Di essere percentualmente Nei grandi numeri Percentualmente Più aggressiva E quindi Determinare Un maggior numero Di polmoniti gravi Rispetto all'influenza E quant'altro Ma la differenza sostanziale Fra le due malattie Al di là della polmonite Che non c'è molta differenza La polmonite è grave Se è grave È grave Fosse da influenza Fosse da quello che volete È la stessa cosa Il punto è un altro È che Mentre l'influenza E i numeri Sono modesti Ma soprattutto Nella caso Dell'epidemia Trova dei blocchi Quest'epidemia Perché? Perché o la gente Si è vaccinata O la gente L'ha avuta l'anno prima E quindi In qualche maniera C'ha una sua immunità Su questo virus Non c'è immunità Ed ecco che Dobbiamo assolutamente Rallentare E bloccare I contagi Il più possibile Quindi un vaccino Sarebbe inefficace? No Tutt'altro Sarebbe efficace Non l'abbiamo No Ma se si può Se si potesse fare Nell'arco dei mesi Appena si sviluppa L'immunità Sarebbe utile Ma ancora non l'abbiamo Ecco perché c'è tutto C'è tutto il mondo Che sta ricercando un vaccino Che nello stesso tempo Debba essere poi Con tutte le tecniche Che ci vogliono Per renderlo efficace E renderlo non nocivo A prop parentesi I Novavax Sono scomparsi Per grazie di Dio Ci sono sempre Gli aspetti positivi Quando ci sono Delle situazioni gravi Però Il dato di riferimento Qual è? Questo Sono più gravi Possono essere Sono più frequenti Sono soprattutto Più frequenti E quindi Dobbiamo rallentare Perché i posti Rianimazione Perché si cura Con la rianimazione Nel caso dovesse essere gravo Prima con la semi-intensiva E poi con l'intensiva Ora Posti di semi-intensiva Ne abbiamo pochissimi Posti di intensiva Ne abbiamo Ma non moltissimi Anzi Per la verità In Calabria Abbiamo addirittura L'ECMO Cioè Che è la possibilità Addirittura Di fare l'extracorporea Cioè L'ossigerazione del sangue Con macchine extracorporea Che è qualcosa di singolare Nel meridione C'è la Bari C'è la Napoli C'è la Palermo Non ce l'hanno tutti Noi l'abbiamo a Catanzaro Noi l'abbiamo a Catanzaro Abbiamo quattro posti Peraltro i quattro posti Derivano Da una Da una aggregazione Positiva Di questi Perché due erano di Cosenza Passati a Catanzaro Questo bisogna ricordarlo Comunque ci sono Quindi funzionano Quindi stiamo a vedere Se sono a Catanzaro A Cosenza A Reggio Ci sono E funzionano Probabilmente Ci dobbiamo augurare Che non siano insufficienti Insufficienti di numero Allora Ecco l'importanza Del comportamento E del rallentare L'infezione Questo è il dato Definitivo Il dato decisivo No no Io so perché Prima ho detto così Dottor Dindianna Perché abbiamo sentito Dei pazienti Che si sono infettati Due volte No? Un caso solo C'è adesso In Cina Pare Di rientro Ecco perché ho fatto La domanda Relativamente al vaccino Dico ma allora Se ci si può infettare Due volte Che servono questi vaccini Il vaccino Sarà fondamentale Anzi colgo l'occasione Per dire E questa Deve essere presa Un'opportunità positiva Per dire ai nostri Telescoltatori Vedete quanto è importante Vaccinarsi Per esempio Per l'influenza Perché già Per esempio Essere vaccinate Per l'influenza È una delle domande Che noi facciamo Che ci permette Anche di orientarci In una certa direzione Quando abbiamo I sindomi respiratori Però io volevo dare Anche dei numeri Siccome siamo In una Diciamo Situazione Che deve essere Studiata Un modista epidemiologico Noi ad oggi Anzi a ieri Alle ore 18 Abbiamo 2263 Persone Sono state considerate Positive Va bene Trovate positive Di questa Il 45 47% Ha avuto bisogno Del ricovero Quindi solo il 45% Della terapia intensiva Soltanto il 10% La letalità È del 3% Quindi vuol dire Che l'Italia Questo nostro Servizio Sanitario Nazionale Tanto bistrattato E tanto criticato Sta dando delle risposte Eccellenti In tutte le sue forme Permettetemi di ribadire Dai medici del territorio Medici famiglie Pediatri Guardia medica Ai medici del 118 Ai medici del dipartimento Di prevenzione Agli ospedalieri Agli infermieri Ai portandini A tutti quelli Che stanno lavorando Perché questo servizio Sanitario nazionale Dà questi risultati Grazie alla benegazione Al lavoro Di tutte queste persone Assolutamente E quindi voglio dire La letalità È del 3% Quindi attenzione Stiamo un po' Attendi Molto attendi Tranquilli Un occhio di riguardo Ai nostri pazienti Anziani Ai nostri familiari Anziani Ai pazienti più fragili Facendo che cosa? Seguendo quelle 10 raccomandazioni Alcune ribadiamole Laviamoci spesso le mani Dici ma quanto tempo? Una professoressa Ai suoi alunni Ha detto una cosa bella Quando vi lavate le mani Candate tanti auguri a te Tanti auguri E tutta la canzoncina Alla fine Sono passati Quei 25-30 secondi Necessari Con acqua e sapone Per lavarsi Cosa mi dite Di tutta questa emergenza Nelle farmacie Che non si trovano Più le mascherine Alcuni disinfettanti Non facciamo il nome Ma l'avete capito Io dico che Sono d'accordo L'acqua calda E il sapone Fanno O c'è bisogno Di questi detergenti Particolari Disinfettanti Non c'è bisogno Di detergenti particolari Va bene l'ipoclorito Allo 0,1% Va bene la mucchina Va bene Va bene l'alcol Al 75% La cosa Quella che va bene Meglio di tutte Acqua e sapone Per almeno 30 secondi Lavando per bene Lavandosi per bene le mani Estrofinando In mezzo alle dita Poi le unghie Insomma Strofinandosi per bene E asciugandosi Poi ci sono tante raccomandazioni Naturalmente La brangeria Tossido starnutire nel gomito Starnutire nel gomito L'abbiamo visto fare tante volte Cercare la mano Se possiamo evitare Ma uno lo può anche dare E poi magari la disinversa Allora parliamo di questi baci e abbracci Dottor Corcioni Perché poco fa abbiamo fatto una battuta Prima di andare in onda Però insomma è la verità No io dicevo Forse a noi del sud Appartiene più questa abitudine Di abbracciarci e di baciarci In realtà non è così Insomma circola Nei whatsapp Un sonetto di Trilussa Che è molto bello Dove dice Ma questa mano così sudaticcia Forse è meglio Salutare romanamente Io dico A scelta O romanamento col pugno chiuso Come volete Purché insomma Non stringendo la mano Ma comunque Voglio dire Se era addirittura Ai tempi di Trilussa Avevi individuato L'aspetto igienico Di questo Devo dire che non Dobbiamo in qualche maniera Modificare O sospendere Per un certo periodo di tempo I nostri comportamenti Esatto Sarà un po' difficile Sarà un po' difficile Perché quando si è Un'abitudine ormai consolidata Ovviamente Però in questo momento particolare Dobbiamo farlo Insomma penso che ci viene quasi spontaneo Mi fa dire una cosa Certo Allora andiamo a questo messaggio Il covid O la malattia La covid La malattia La coronavirus 19 Può essere Combattuta Con lo stesso covid Però diamo a questo covid Un significato Sviluppiamo l'acronimo di covid C come collaborazione E competenza O come organizzazione V come vigilanza I come impegno E di come disponibilità Se come operatori sanitari E come cittadini Ci organizziamo Tutti insieme E lavoriamo in un'unica direzione Il nostro nemico Il nostro nemico in questo momento È il coronavirus È il virus Quindi dobbiamo organizzarci Con competenza La competenza è fondamentale Per cui Chi deve fare le linee guida È uno solo La linea di comando Deve essere chiara Le circolari Devono essere precise E chiare E solo Si deve ragionare In quel modo Cioè ognuno deve sapere Cosa deve fare E lo deve fare Secondo le linee guida adatte Assolutamente Poi certo Se c'è qualcosa Che hai più Può sembrare Un po' strano Eccetera Dobbiamo capire Tutti quanti Che è Una scoperta Che si vive Un po' Alla giornata Per tanti versi No? Proprio perché È un pianeta Sconosciuto Questo virus Vero Dottor Corcioni? Aspetti Ecco Sconosciuto il virus Non sono sconosciute L'epidemia Voglio dire La letteratura Dai testi latina e greci Era Conosce Conosce L'epidemia Sono state studiate Esistono delle discipline Ecco il discorso Della competenza Che possono prevedere Quello che succede E possono dire Quello che è necessario fare In questo momento Per cui attenzione È il virus Che non è conosciuto Ma i meccanismi epidemici Li conosciamo bene Sono stati studiati E appunto Se Basta attingere A queste competenze Per essere più calmi Più Organizzate Come giustamente Diceva il collega di prima Io Colgo questa opportunità Questa platea Per ricordare Un dato importante La Il riconoscimento Cioè la riconoscenza Che io Spero che Tutti i cittadini Abbiano nei confronti Degli operatori sanitari In questo momento Non si stanno per niente Tirando indietro Rischiano in prima persona Come abbiamo visto Tutti Soprattutto come diceva Giustamente Din Gianna Alcune volte A mani nude Cosa che non deve succedere Sia nella Condituità assistenziale Quella che comunemente Viene chiamata Guardia medica Che in quella Più in difficoltà Devo dire Forse più della stessa Medicina generale La medicina generale E ovviamente E ovviamente Lì Chiedo scusa Lì i pazienti Li conoscete No magari Nella guardia medica No E quindi A maggior ragione Quindi devo dire Un grande riconoscimento Ma anche Un appello A chi deve In qualche maniera Provvedere con i mezzi Con i dispositivi Di prevenzione Che faccia Quello che bisogna fare E devo dire Speriamo Che usciremo Da questa Contingenza Acuta Forse migliori Nel senso che Potremmo trovarci Rianimazioni Rimesse a nuovo Potremmo trovarci Con le pneumologie Aperte Con i pronto soccorsi Che non siano più Affollati Come li abbiamo Devo dire Però questo Non potrà succedere Anche perché gli accessi Sono diminuiti tantissimo Questo non potrà succedere Se l'unico meccanismo Di governo È quello della ragioneria Io devo dire I ragionieri Non ci interessano Riciclati In qualche salsa Ma competenza E persone Che abbiano gestito La sanità Quelli ci interessano Certo Certo Volevo chiedervi Un vostro parere Sul ruolo Degli antivirali In questa patologia È un E diciamo È una terapia Sperimentale Stanno facendo Lo spallanzani Stanno usando Degli antivirali E dei farmaci Che sono stati usati Nell'HIV E nella SARS In altri tipi di malattie E quindi Ancora non conosciamo I risultati Penso che saranno Pubblicati Quando prima Anche perché c'è Tutta una Un fiorire adesso Di pubblicazioni Che stanno venendo fuori Compresi Qualcuno sta cominciando A lavorare Anche facendo uno studio Sui sintomi Magari Qualcosina Che ci possa indirizzare Anche da un ministro Antologico Più in una direzione Piuttosto che in un'altra Quindi si sta lavorando Si sta lavorando molto Però come dicevo E si diceva prima È un virus Completamente nuovo Noi non sappiamo Praticamente Quando durerà Ricciardi Ieri stesso Ha detto Probabilmente Eravremo finito A maggio Giugno Ma facendo un'analogia Con quella che era stata La SARS Quindi siccome Il coronavirus Appartiene a quella famiglia Anche se ha avuto Questo che abbiamo noi È nuovo E pare ci sia stato Un salto di specie Quindi dagli animali All'uomo È tutto da scoprire È tutto da scoprire Magari si potrebbe ripresentare È tutto da scoprire Dobbiamo Dobbiamo studiarlo Perché l'OMS ha fatto Diciamo Ha dato Queste indicazioni A stare attenti Perché è un virus nuovo Quando compare una cosa nuova Tu devi allertarti Devi organizzarti Che non sai che cosa Certo Chi c'hai di fronte Può essere una cosa banale Può essere una cosa Molto grave E rischiosa E gli altri stati Europei Penso che stiano Facendo tesoro Dell'esperienza italiana Perché l'esperienza italiana Servirà molto al mondo Per cercare di Diciamo Di ridurre Questa epidemia Anche negli altri stati Perché oramai È in modo dappertutto Dottor Corcioni Vi dica Dica Io Devo ricordare Devo ricordare Un altro ambiente Estremamente Un altro dato Estremamente importante Per fortuna Ancora non sulle prime pagine Qui in Italia Lo è stata Teheran Dove non esistono mezzi Adeguati di organizzazione Ma È stato importantissimo A Wuhan È stata Cioè in Cina Sembrerebbe lontano da noi Invece no Sono qui a fianco a noi Sono comunque I nostri fratelli E dobbiamo considerare Questo dato Il rischio delle carceri Il rischio delle carceri Lo dobbiamo tenere In grandissima considerazione So che sono state fatte Delle circolari Dal ministro specifico Ma capite che lì La situazione è esplosiva Sapete il sopraffallamento Sapete le traduzioni Pochi metri quadrati Sapete Sapete Esatto Lì nelle carceri Non deve arrivare Alla malattia Perché se arriva Alla malattia È un problema serio A Teheran ha dovuto aprirli Quindi voi capite La situazione grave In cui abbiamo Noi abbiamo la necessità Tutti insieme Di considerarlo Anche una priorità Non la trovo Non la trovo Forse per un allarmare Non la trovo molto Sul giornale Ma i report Che ho letto Su Wuhan Mi impongono In qualche maniera Di crearmi questo problema Anche lì esistono Dei medici Esiste il servizio sanitario Che è presente Anche nelle carceri Ma è proprio la struttura In quanto tale Che è a rischio Ma a questo proposito Però vorrei dire Che ieri ho partecipato A una riunione In prefettura Con l'eccellenza Il signor prefetto Di Cosenza Che ha presieduto Un tavolo Un tavolo tecnico Diciamo Dove eravamo presenti Un po' tutti E c'erano anche I responsabili Delle carceri Della nostra provincia E quindi Il prefetto Ha dato indicazioni precise Loro Avevano già ricevuto La circolare Il prefetto Cercherà un pochino Di coordinare Di coordinare tutto Ma si stavano Attrezzando Anche loro Per seguire Le linee guida Che vengono mandate Dal loro Diciamo Dal loro provveditorato E quindi Quello che abbiamo bisogno È quello di avere Un'unica strategia Un standardizzare il linguaggio Un unico tipo di linguaggio E di collaborare E metterci in contatto Tra di noi Quindi un unico tavolo Diciamo Di concertazione E' importante Io la mattina Adesso non metto più La sveglia Perché alle 7.05 Mi chiama Il direttore Del dipartimento Di prevenzione Dottore Marino Mario E mi dice Andò sei pronto Qua siamo pronti Come è andata la giornata Ci sentiamo mattina E sera Con lui E con Borselli Che è responsabile Del 118 Che cerchiamo Diciamo Le tre figure Di vedere se ci sono Di vedere se ci sono Delle criticità Come risolverle Eventualmente La nostra grande criticità Lo voglio ribadire Perché voglio Che arrivi Questo messaggio È la mancanza Dei dispositivi Di protezione Individuale Vi prego Vi chiedo Di farceli avere Subito I medici del territorio La guardia medica In modo particolare E pediatri Libera scelta Assolutamente Assolutamente Perché insomma Sì Fino a un certo punto Le diagnosi per telefono Però può capitare Che il medico Deve andare a fare Una visita domiciliare E deve andare Attrezzato E insomma Non sottoposto A nessun tipo di rischio Quindi E i medici di guardia medica Abbiamo già sentito Insomma Questo è un appello Veramente accorato Accorato Che facciamo Siamo alle ultime battute Dottor Corcion I bambini Ma qua forse Si può dare una parola Di più convolto Al di là di quello Che è successo Bisogna poi spiegare Caso per caso Perché poi Ancora Sulle evoluzioni cliniche Bisogna studiare molto Dall'osservazione Questa è proprio La medicina tradizionale Quella che forse A me personalmente Ma a molti di noi Che abbiamo scelto medicina È la più bella Quella che si impara Guardando Facendo Stando sul marciapiede Come piace dire a me Quindi A prescindere dal caso Che è successo ieri a Bergamo Di una bambina di un anno Che si è infettata Beh Si può dare una parola Di conforto In che senso Nel senso che i bambini Meno si infettano E comunque si ammalano di meno E quando si ammalano Non si ammalano In maniera grave Sembrerebbe che in Cina Nessun bambino È andato in rianimazione Beh quindi Voglio dire Questa è una cosa Tranquillizzante Non poco Per le mamme Che mi dicono Tutte Tutte le I link Che ho Estremamente agitate Che è un'agitazione Che posso dire È fuori posto Di tranquillizzarsi Di non agitarsi Ovviamente il periodo Quello tipico Delle bronchiti Dei raffreddori Vanno curati come sempre Di non agitarsi Più di tanto E se rimaniamo Come stiamo In Calabria Con nessun caso Autottono Beh insomma Di star tranquilli Volevo aggiungere Quello dice il Presidente Di dati che vengono Dal centro epidemiologico Cinese Che ha visto un pochino Quella la letalità Anche per quanto Ha delle fasce di età E da 0 a 10 anni Non è fatale Con i dati Allo stato attuale Che hanno in Cina E che hanno tanti casi Quindi non è fatale Da 0 a 10 Poi mano a mano Aumenta nelle varie fasce Fino a 49 E 0,2 E 0,3 Per aumentare Ancora di più Sopra i 65 Sopra i 75 anni Quindi Attenzione Un occhio di riguardo Ribadisco Scusa se lo ripeto Ma è quello che dobbiamo fare Per collaborare Attenzione Ai nostri pazienti anziani Ai nostri pazienti fragili Ammalati cronici Tant'è che oggi Si parla C'è stata una raccomandazione Di dire 65 anni Con patologie croniche Statevi a casa Non uscite Sopra i 75 anni State un pochino di più A casa Io non dico Che uno non debba socializzare Bisogna socializzare Però facciamolo Con grande attenzione Con grande attenzione Senza paura La paura è una cosa positiva Ma non facciamoci venire il panico Quello è negativo E può provocare stigma Assolutamente No ma poi ci vengono Ci assalgono dei dubbi Insomma Più disparati Per esempio Una definizione Si dice Di evitare i luoghi affollati Allora io mi immagino Per luogo affollato Non so Una sala di cinema Piuttosto che un tram Piuttosto che No Certo dove Immaginiamoci Dove il contatto È veramente ravvicinato Forse il cinema no Eh dottor Corcioli Ah insomma Devo dire Devo dire Fa pure piacere Andare al cinema Con moltissima gente Perché insomma In qualche maniera La gente evita Oppure ancora meglio In città come Roma Finalmente trovare una metro Sempre sporca Sempre Disastrosa Sempre con molte fermate Interrotte Ma con pochissima gente Quindi da chi è costretto A prenderla La prende con più tranquillità Dopodiché È meglio usare i guanti Anche se non fa freddo A Roma Perché bisogna tenersi Alle maniglie Però in ogni caso È più comodo Pegliarla vuota Certo Certo L'attenzione di oggi È sulle goccioline Attenzione di droplet Quindi tenersi a distanza Di sicurezza Diciamo che L'aerosol Prodotto dalle goccioline Tende a cadere Non resta Quindi nell'aria Per cui se uno sta Ad una distanza Di un metro Almeno un metro Almeno un metro Si dice Ma in realtà Facciamo un po' di più Un metro e ottanta Diciamo Quindi diciamo Un paio di me Qualcuno diceva No la distanza Anche per andare ai musei Si poteva andare Mettendosi a distanza Eccetera Ma diciamo Manteniamo una distanza Almeno di un metro e ottanta Alcuni negozi Avete visto Fanno entrare i propri clienti Tre, quattro per volta Siete d'accordo su questo? Può anche essere un modo Per cercare di evitare Gli assembramenti Ma la cosa importante È cercare di stare lontano A debita distanza A debita distanza Ma soprattutto Quelli che hanno Magari febbre Con tosse Stessero a casa Certo È questo Cioè Per curarsi meglio Per evitare di prendere loro Poi delle sovrinvezioni E aggravare il loro stato di salute Quindi non solo Per non Diciamo Invettare Che poi questo Ma per non aggravarsi Anche loro Assolutamente Sempre senza stigma Ripetendo E sono cose Diciamo Naturali Ma osservare questi dieci punti Che poi insomma Fa bene per tutto E anche Per ogni cosa In questo momento Di emergenza E proprio in questo momento È venuto fuori comunque Questo spirito Che lega Tutti i professionisti Un po' tutti noi Ci sorvegliamo L'un con l'altro Ci consigliamo E dobbiamo cambiare Delle piccole abitudini Ma se questo serve A diciamo così Vivere un po' più tranquillamente Questa situazione Benvenga il tutto Allora Io vi ringrazio Grazie dottor Corcioni Grazie dottor Dingianna Grazie a me Speriamo di vederci Presto per un aggiornamento E sentire soltanto cose Ancora più positive Più belle Più rassicuranti Grazie a voi amici Per averci seguito da casa All'appuntamento Alla prossima settimana Buona serata Alla prossima settimana Alla prossima settimana Alla prossima settimana